18 settembre la Chiesa celebra la festa liturgica di San Giuseppe da Copertino, il frate volante come è stato chiamato, una storia incredibile quella di questo frate che Dio visitò con molti doni mistici ma che implorava in lacrime Dio di togliergli. Lui durante la messa si elevava da terra e arrivava a toccare, sono testimonianze, si stenta a crederlo, date da notai coinvolti dalla Santa Sede perché la sede apostolica, la Santa Sede intervenne di fronte a questa situazione diciamo imbarazzante di un frate tra le Marche e la Campania che si alzava da terra mentre celebrava messa. Ma fu il frate non che volava prima di tutto ma il frate dell'obbedienza e il frate dell'umiltà.